Mattina dell'11 agosto 2009, a 10 secondi dalla partenza, 10 secondi abbiamo già forato e siamo qui dal ciclista. Qui siamo in officina, stanno lavorando sulla bici di Maurizio. Il ciclista dice che la ruota che sta aggiustando aveva una camera d'aria così schifosa da far vergognare anche il peggior fabbricante cinese. L'abile artigiano Ligure lavora per rimettere in sesto una delle bici più infami prodotte in Oriente. Questi sandali da tedesco, mentre il ciclista ci sta già consegnando la bici, è pronta, non ci resta che pagare. In poche parole il signore ci sta dicendo che questa bici fa assolutamente schifo. Una coppia di vari ciclisti che dicono anche che questa sella è bassa. Il navigatore non si vede assolutamente. Posizione satelliti imprendibile. Unitanto un qualche presente umano. Il navigatore non si vede assolutamente. Il navigatore non si vede assolutamente. Qui in pratica finisce la pizza ciclabile e comincia quella motorabile. Guarda quant'è roba. Sto tornando indietro. La cosa si vede che sto tornando indietro dal fatto che sono gelato dall'altra parte. Maurizio non c'è perché gli bruciava il culo ed è rimasto a Sanremo. Questo è un percorso ciclistico fatto sulla strada di una vecchia ferrovia. Ma non c'è alcun piano. Non c'è alcun piano. Vaccino che lo so spiego. Non c'è alcun piano. Non c'è alcuna. E' un po' di questo. Grazie ai Bazzi. La prima volta che ci sta sottendo si può andare con qualsiasi mezzo a pedali iscriviti al canale